Oggi con il corteo della bolla si aprono le celebrazioni della 728esima edizione della perdonanza celestiniana una edizione ovviamente particolare e speciale impreziosita dalla visita di Papa Francesco domenica per l'apertura della Porta Santa riguardo invece al corteo della bolla si parte alle 18.30 diretta su Rete 8 a cominciare dalle 18.15 per tutti i dettagli siamo in collegamento con il nostro direttore Carmine Perantuono Carmine a te Buon poveriggio Luca, buon poveriggio ai nostri telespettatori sì siamo pronti anche noi con tutta la nostra squadra Alberto Capo, Galvano Coppa, Daniela Rosone, Enrico Giancarli e i due super commentatori che oggi per Rete 8 mi aiuteranno a raccontare il corteo della bolla così come faranno nel giorno della visita papale domenica vale a dire l'esperto di perdonanza Angelo De Nicola è il giornalista del quotidiano Il Centro Giustino Parisse qui oggi si alza il sipario sulla 728esima edizione della perdonanza celestiniana all'Aquila che è poi anche la quarantesima dell'epoca moderna è un evento che fa da cornice all'indulgenza plenaria annuale che venne proclamata da Papa Santo Celestino V proprio qui nella Basilica di Collemaggio che è alle mie spalle il 29 settembre del 1294 è la prima indulgenza codificata nella storia che anticipò di sei anni l'istituzione del Giubileo della Chiesa e che quest'anno verrà proclamata da Papa Francesco che la mattina del 28 agosto, domenica, dopo aver recitato l'Angelus sul sagrato di questa Basilica aprirà la Porta Santa di Collemaggio anche questa è una circostanza storica visto che si tratta del primo pontefice in 728 anni a dare il via all'indulgenza celestiniana che dura un giorno ma questo verrà domenica siamo ad oggi oggi invece è la giornata laica è la giornata del viaggio del fuoco del morrone e della bolla di Celestino fin qui, fino al piazzale di Collemaggio mi stanno raggiungendo in questo momento anche due figuranti del corteo che prenderà le mosse tra qualche ora io ringrazio e saluto soprattutto il tenente colonnello del nono alpini Pietro Piccirilli che però qui è in una veste diversa veste direi da perdonanza ma anche tra gli organizzatori di questo corteo che ha delle sue particolarità quest'anno perché insomma è tutto condizionato dalla visita papale di domenica cosa succederà questo martedì? Tanto un saluto e un grazie a voi della stampa che sempre ci seguite e fate grande questa manifestazione il corteo è stato anticipato come tutti sapete al 23 come è giustamente detto direttore per dare agio alle forze dell'ordine del 28 di dedicarsi in piena autonomia e tranquillità alla sicurezza della visita papale si è voluto quindi oggi 23 unire quelli che sono i due capisaldi della perdonanza celestiniana come patrimoni immateriali dell'UNESCO il fuoco del morrone che è partito il 16 di agosto a cui è il centro celestiniano dall'eremo del nostro santo e il corteo vero e proprio che oggi abbiamo eccezionalmente per questa 728esima edizione della perdonanza l'unione dei due caposaldi del patrimonio immateriali dell'umanità e il corteo sarà composto da 17 gruppi sono 4 esterni e 13 gruppi locali aquilani oltre 600 figuranti siamo quasi ai fasti pre-pandemia e inoltre c'è la presenza del corteo civico che torna per due anni non c'è stato ovviamente data la problematica sanitaria nazionale torna e costituisce un corteo di oltre mille persone che alle ore 18 circa ovviamente muoverà dai quattro cantoni sul percorso tradizionale non accoglieremo l'arcivesco quindi il cardinal Petrocchi sulla piazza San Massimo perché ci aspetterà già qui sul prato arriveremo ci sarà quindi il corteo civile che arriva ci saranno i tedofori del centro celestiniano che portano la fiaccola che servirà successivamente a accendere il tributo e a dichiarare aperta la perdonanza arriverà il corteo storico che scorta la dama della bolla e la croce che saranno poi lette sul palco dal nostro sindaco I figuranti principali di questo corteo sono non scelti a caso si tratta di persone straniere che hanno con la loro testimonianza raccontato e che racconteranno delle storie importanti all'insegna del messaggio di pace che è quello che Celestino oggi laicamente coniuga con queste presenze che portano la bolla del perdono ma anche della pace fin qui davanti a Colle Maggio ma che poi verrà sublimato dalla presenza di Papa Francesco insomma una perdonanza che in questi tempi e voi militari insomma conoscete bene le difficoltà che state attraversando anche voi insomma un messaggio che va rilanciato proprio e lo sarà in maniera globale qui domenica prossima sì la perdonanza è sempre stata inclusiva non ha mai chi con voi la segue da anni lo sa mai è voluto prendere solo e soltanto gli aguilano e gli abruzzesi nel corteo ci sono personaggi persone uomini e donne di tutte le etnie e di tutte le provenienze geografiche abbiamo gli aguilani come il mio figlio Dario che sfila da quanti a tre anni e mezzo e veste come me con orgoglio la cotta degli uomini d'armi dell'Aquila abbiamo personaggi provenienti dall'estero abbiamo extracomunitari abbiamo personaggi che si sono insedi dall'Aquila sono da visitare hanno partecipato al corteo e sono rimasti innamorati della città e del corteo stesso nel messaggio che come giustamente le ha detto viene lanciato di inclusione e di pace quest'anno avrete tre personaggi di elevatura culturale lo abbiamo visto ben presentato dagli organi di informazione altissima di una simpatia devo dire questo al vostro personalmente incredibile di un'umiltà che lasciatemelo dire fa veramente onore al messaggio di Papa Celestino bene allora Luca noi abbiamo già detto tanto abbiamo detto forse troppo nello spoilerare quello che poi vi racconteremo minuto per minuto a partire dalle 18.15 qui in diretta il tempo questa mattina è stato all'insegna del sole adesso c'è qualche nuvola ma siamo certi che non ci saranno sorprese almeno lo speriamo che cosa dicono le previsioni meteo potrebbero potrebbe esserci un piovasco sul piovo pranzo speriamo di no ma anche se fosse non ci ha fermato il terremoto non ci ha fermato la peste non ci hanno fermato gli incendi nemmeno il covid un po' d'acqua gli pare che il corteo non sia solubile in acqua quindi lo faremo grazie Luca allora appuntamento ai nostri telespettatori dalle 18.15 in diretta qui da Colle Maggio a te la linea se non hai domande no perfetto così grazie Carmine grazie a tutti